Spero che questo solleciti il Ministero ad accelerare quegli iter per poterlo realizzare perché tanti produttori attendono ansiosamente da molti mesi e sono bloccati per questo. Speriamo che questo invito da parte del Presidente della Repubblica possa accelerare questo iter. Il cinema ha bisogno dei fondi? Sì, 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 io l'ho detto, sì, ha bisogno, purché appunto mettiamo da parte i ladri, mettiamo da parte gli incompetenti, mettiamo da parte i dilettanti che non lo fanno per amore per il cinema, il cinema, quello di qua, insomma ha bisogno dei fondi. C'è attenzione secondo lei? C'è la giusta, le giuste persone e la giusta attenzione? Beh sì, non lo so, lo chieda... penso di sì, penso di... ma ripeto, bisogna vivere sul presente, su quello che accade. Il monito, il suggerimento, l'incoraggiamento del Presidente penso sia stato estremamente prezioso.